Ciao, mi chiamo Monica e sono di Monaco e studio Storia. Ciao, mi chiamo Michael e vengo da Monaco e studio Ingegneria Civile. Ciao, io sono Litvin, lavoro qua e vendo i biglietti per il cibo. Ciao, mi chiamo Thomas Diefenhardt, studio a Monaco, studio in Ingegneria dove si impara come si fa la birra. Adesso è la quinta volta che sono qui al Meeting e lavoro come volontaria. Io qua lavoro al Rhein Meeting, ieri ho fatto la moderazione per l'incontro, no, Gewissheit in der Ungewissheit. Ho fatto il Rhein Meeting ogni anno, da quando c'è, cioè cinque anni. Sono qua al Meeting, è la mia quinta volta e sono venuto perché ci hanno chiesto di aiutare. E per me la cosa più bella è, vedendo la gente, anche quelli che organizzano il Meeting, è proprio di poter imparare dal loro atteggiamento, di volere incontrare le persone, incontrare la realtà, conoscerla e comunque condividere la vita, tutto quello che noi incontriamo di bello nella vita, di regalarcelo ma anche di servire a questa bellezza. E questa è la ragione per la quale io voglio continuare a venire qua. È stata una bella esperienza, sì, è stata la seconda volta e voglio venire un'altra volta. Grazie. Per me la cosa più bella è incontrare la gente, cioè sia gli amici che non vedo spesso, ma poi soprattutto anche gente nuova che viene ad ascoltare e che poi nel caso migliora ha delle domande. E poi anche vedere come così a me sorgono delle domande. Per me è sempre una bellissima esperienza di condividere su temi che mi interessano personalmente, condividere le domande diciamo più profonde che ho e di provare a dare risposte a queste domande e sì, condividere la vita, la vita con tutti. Grazie. Grazie.